Ciao a tutti, vediamo un metodo infallibile per punire il narcisista, perché molte persone mi chiedono ma come si punisce sto narcisista? Ma come si punisce sto narcisista? E allora, vediamo un metodo infallibile per punire un narcisista, però devi avere le palle per farlo, perché se non hai le palle per farlo allora di te faranno polpette. Allora, supponiamo che tu hai capito che una persona è narcisista, questo deve averlo capito, però se ti svegli un pochettino avrai capito che una persona è narcisista. Allora, è molto semplice come punirlo, se tu lo capisci dapprima, nella fase di love bombing è difficile perché non puoi sapere se è un narcisista, ma dopo il love bombing ci sarà la fase di allontanamento in cui cerchi di allontanare tutte le persone da te, poi la fase di denigrazione, allora se tu noti queste fasi capisci che è un narcisista. Intanto la prima cosa fondamentale è che devi evitare di coinvolgerti su persone fintanto che non hai la prova provata che loro sono coinvolte nei tuoi confronti, altrimenti, soprattutto con i narcisisti, rischi di fare dei flop, dei buchi nell'acqua e lo dimostrano soltanto i fatti. La seconda cosa che devi fare è, una volta che hai capito che ti sta denigrando, tu devi allontanarti, vedrai che il narcisista ritornerà e ritornerà alla carica usando il love bombing oppure se ti ha già lasciato, che ti è insacrota dopo, che hai già fatto una fase di, diciamo, squalifica, tanto poi sai che ritornerà perché il narcisista ritorna sempre. Allora metti qualche piccolo vincolo iniziale e devi, tu devi prenderlo nella fase di love bombing perché la punizione più forte di un narcisista è lasciarlo di colpo nella fase di love bombing. Cioè quando lui proprio fa love bombing tu dici, sai che c'è, non mi interessi più, arrivederci, ciao. E lo lasci lì. Quello per il narcisista è un colpo mortale, è un'amazzata che non so se reggerà perché essere lasciato proprio mentre lui è nella fase di love bombing e cerca di fare in tutti i modi e quello è veramente un'amazzata che arriva tra cap e collo perché lui si aspetta che tu ti allontani quando ti denigra, quando fa queste cose. Ha già il piano previsto, ha già il piano pronto per riragganciarti, magari abbassando un po' i toni, riavvicinandosi. E' già schedulato, è già pronto a questa fase perché molte persone comunque lo lasciano, o alcune lo lasciano, a meno di non trovare proprio un codipendente fradicio, diciamo così, al 100%. Magari le persone reagiscono anche un pochino. Ma lui non è vaccinato per essere lasciato quando fa la fase di love bombing, lui o lei. Quindi puoi lasciare lui o puoi lasciare lei, ma nella fase di love bombing il narcisista è vulnerabile. Per cui se lo lasci lì è un colpo mortale al narcisista che lo manda in crisi esistenziale, non sa più chi è, lo manda in crisi esistenziale un duro colpo, ma tu devi avere la forza per farlo e lasciarlo proprio mentre lui ti fa love bombing, ti porta in alto tutta come brutto, lo colpisce alle spalle e lo lasci. Quella è la punizione maggiore al cui il narcisista non è predisposto a difendersi. domanda in tilt completamente. Bene, per questo video è tutto, lascia i commenti qua sotto e iscriviti al canale, metti un like e condividi con i tuoi amici. Ciao!